Le parole di sicurezza sono davvero importanti, in tutti i tipi di attività sessuali. Comprendere i propri limiti ed essere veramente chiari su quali siano è fondamentale per avere una vita sessuale sana. Alcune cose da considerare quando si stabiliscono questi limiti. Con quale tipo di giocattoli vi sentite a vostro agio? Quali posizioni funzionano o non funzionano per voi? Che tipo di profondità volete? Avere una parola di sicurezza può essere utile per esprimere questi limiti. Quando siete nell'atto, avere parole come, rosso, verde e giallo, come segnali verbali consente alla persona che riceve la penetrazione di assumere il controllo e guidare la persona che sta penetrando, spiega Linnea Marie, educatrice sessuale certificata. Tutte le parti dovrebbero essere consapevoli di ciò che sta accadendo e del livello di comfort. L'angolo, il posizionamento, la profondità, sono tutti fattori importanti. I confini e i segnali verbali aiuteranno a raggiungere il massimo piacere.